Questo dunque il discorso del Santo Padre. Santo Padre ora sta stringendo la mano al Presidente della Repubblica, alla moglie del Presidente della Repubblica che gli sono accanto. In questo vediamo che nella ultima visita del Papa Giovanni al Messico la rappresentazione gubernamentale ha fatto diversa e adesso vediamo come sono tanti politici che oggi si trovano in questa correnza del Papa. Ecco, Padre José María, tuttavia forse vale la pena di dire qualcosa proprio su questa particolare situazione sociale che vive il Messico. Abbiamo sentito il Presidente, il Santo Padre... Grazie.